Bravi, bravi figli, riempite bene di odore il soppietto, si mamma, squisito! Il giro d'Italia con Saporitali, ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitali per scoprire le ricette della cucina italiana, un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Ha battuto l'ultimo dei quattro pini secolari della Belzia di Loreto a Mercogliano, esemplari dichiarati malati e quindi a rischio di crollo. Inevitabile, secondo i tecnici del CNR e il perito incaricato dalla comunità benedettina, il taglio degli storici pini. La strada provinciale 70, chiusa a traffico da 13 marzo scorso, dopo il crollo di un altro albero del giardino della Bazia, dovrebbe aprire a traffico nelle prossime ore, un via libera atteso anche dagli organizzatori del giro d'Italia. La carovana rossa, che farà tappa a Montevergine il 12 maggio, non attraverserà la strada che costeggia la Bazia, ma Arteria rappresenta uno snodo strategico a livello logistico e per l'ordine pubblico. Domani a Palazzo di Governo, previsto un altro vertice, traenti forze dell'ordine organizzatori del giro d'Italia. Al tavolo sarà presente anche il sindaco di Mercogliano, Massimiliano Carullo. Debo ringraziare Sua Eccellenza il prefetto, perché anche questa azione che poteva creare della caduta dei pini, praticamente è stata messa in sicurezza, per cui penso che la provincia nelle prossime ore potrà tranquillamente riaprire la strada e quindi togliere un disagio per la città di Mercogliano e per tutti i paesi dell'Interland, per coloro che vengono dall'autostrada e che la mattina hanno costretto chiaramente a cambiare direzione. Quindi una migliore qualità della vita. Sì, si tingeremo di rosa, perché praticamente il 12 ormai è prossimo, arriverà all'unica tappa di arrivo in Campania e a tal proposito ringrazio ancora una volta Sua Eccellenza il prefetto, perché domani questa organizzazione sarà oggetto di coordinamento proprio nel tavolo della prefettura. Ovviamente sotto osservazione ancora il movimento franoso ha colpito di recente le comunità del Partenio, mi riferisco alla frana di Ospedale. Anche qui io la ringrazio per la domanda perché mi aiuta a fare chiarezza. Anche qui il Comune non ha nessuna competenza, nel senso che la Stata era provinciale, il terreno era di un privato. Il Comune si è sostituito dal privato per poter mettere in sicurezza praticamente quella frana. Con la collaborazione della provincia e degli attrendi di servizio faremo un utile lavoro per tutti i pellegrini che nel mese di maggio vorranno affluire al Santuario di Montevecci, augurando che prendano il più possibile lo straordinario strumento di fede, che è quello della funicolare che sarà funzionante.